Tornati in studio con Bookmania e parliamo adesso di un romanzo particolare. È una storia d'amore, vedete la copertina Per una volta nella vita, scritto da Rainbow Rowell, ma è una storia d'amore un pochino diversa da quelle a cui siamo abituati. I protagonisti sono due adolescenti, due sedicenni, che si incontrano per caso sull'autobus la mattina andando a scuola. Ma non succede quello che solitamente siamo abituati a leggere, ovvero il classico colpo di fulmine, lui bellissimo, lei stupenda, si scoprono innamorati in cinque minuti. In realtà il loro è un conoscersi piano piano. Ma prima di entrare nel merito del libro, consiglio a tutti di vedere il book trailer. Eleanor è appena arrivata in città. La chioma riccia, rosso fuoco e l'abbigliamento improbabile. Ha lo sguardo basso di chi, in pasto al mondo, fa fatica a sopravvivere. Park ha tratti orientali, che ha preso dalla madre coreana e veste sempre di nero. La musica è il suo rifugio per tenersi fuori dai guai. La loro storia inizia una mattina, sul bus che li porta a scuola. Park è immerso nella lettura dei suoi fumetti e perso tra le notte degli Smith. Eleanor si siede accanto a lui. Nessun altro le ha fatto posto, perché è nuova e parecchio strana. Il loro amore nasce dai silenzi, dagli sguardi lanciati appena l'altro è distratto, e li coglie alla sprovvista, perché nessuno dei due è abituato a essere il centro della vita di qualcun altro. Tra insicurezza e paure, Eleanor e Park si scambiano un regalo più grande, amare quello che l'altro odia di sé, perché è esattamente ciò che lo rende speciale. Sarà la loro forza, perché anche se Eleanor non sopporta quegli sfigati di Romeo e Giulietta, anche il loro legame deve fare i conti con un bel po' di ostacoli. Primo fra tutti la famiglia di lei, dove il patrigno tiraneggia incontrastato. Riusciranno per una volta nella vita ad avere ciò che desiderano? Si chiama Rainbow perché i genitori erano hippie, e si è laureata in giornalismo perché quando le uniche due cose che ti riescono bene sono leggere e scrivere, se vuoi anche un'assicurazione sanitaria non ti resta che studiare da giornalista. Vive in Nebraska con il marito e i due figli, e cura una rubrica di costume e cultura pop su Loma Award Herald. Il suo primo romanzo, Per l'amore basta un click, ha ricevuto un consenso unanime di pubblico e critica negli USA e in UK. Migliore esordio del 2011 per il Kirkus Reviews, libro dell'estate 2011 per Entertainment Weekly, selezione scopri nuovi talenti delle librerie Barnes & Noble. Per una volta nella vita è stato segnalato da Amazon tra i migliori libri del 2013 e ha ottenuto 14.000 giudizi su Goodreads, il più popolare forum di lettori. Un libro che era già molto atteso anche prima della pubblicazione italiana, che è stata fatta grazie a PM, è una storia, come dicevamo prima, di vedere il book trailer sicuramente particolare. I due protagonisti, Eleanor e Park, non sono i classici ragazzi che sono popolari, tra i migliori della scuola, tra i più belli e i più ricchi. Sono anzi due persone tra gli esclusi dai tanti. Infatti Park viene spesso tiraneggiato da un suo compagno di classe che si chiama Steve. Infatti per isolarsi dal mondo indossa sempre delle cuffie e resta immerso nella propria musica. Eleanor è nuova ma è un po' strana e già da subito la inquadrano tutti e la giudicano per come è vestita e per come si acconce in maniera un po' hippie, un po' stravagante. E quindi l'incontro di due diversità di questo genere fa scaturire una sorta di solidarietà iniziale. Si riescono a capire molto bene i due ragazzi e riescono a condividere le passioni di uno e le passioni dell'altro, tant'è che Park è un amante della musica e dei fumetti e fa trovare tutte le mattine sull'autobus, sul sedile una pila di fumetti per Eleanor. E anche il primo incontro è sicuramente molto particolare, tant'è che quando la vede entrare con questa chioma di capelli rossi, come avete visto anche dal book trailer, mentre chi ci ascolta non ha potuto vederlo ma lo racconto io, praticamente succede che nessuno le fa posto sull'autobus, nessuno vuole sedersi accanto a lei, l'unico è proprio Park che le fa posto e da lì in poi saranno inseparabili. Ma loro, come dicevamo, è un amore particolare, che nasce giorno dopo giorno dal capirsi, dal comprendersi, dal verificare anche le difficoltà che ognuno di loro ha. E come diceva anche nel book trailer, effettivamente avranno diversi ostacoli contro cui dover combattere a partire dalla famiglia, ma non solo. Anche perché è abbastanza incomprensibile un affetto che nasce in questo modo e sicuramente ci sono, come in tutte le cose, anche persone che vorrebbero separarli. Un libro dolce, delicato, ma ipnotico, qualcuno l'ha definito in questo modo, perché è in grado di cogliere completamente l'attenzione. È scritto in maniera molto semplice, molto lineare e anche molto diretta. Si legge veramente molto bene ed è uno di quei libri che sicuramente vi resterà nel cuore. Come vedete la copertina particolare con Eleanor e Park, Per una volta nella vita, di Rainbow Rowell. A questo punto ci lasciamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché dopo parleremo di Sara Tessa e dell'Uragano di un Butter Dali. Sentiremo l'intervista che abbiamo realizzato in settimana e a seguire i Centomila Regni di Gemisin, pubblicato da Gargoyle.